Calcio di rigore, calcio di rigore per la Virtus Castelfreddano, si appresta a tirare dal dischetto il nostro Gianluca Malboni, ecco l'arbitro ha decretato il calcio di rigore, l'arbitro Nepa della sezione Aia di Chiechi, batte Gianluca speriamo, gol, pareggio della Virtus Castelfreddano, 3 a 3, su calcio di rigore Gianluca Malboni, il suo terzo gol dall'esordio di lunedì scorso e la doppietta in quanto ha realizzato anche una rete nel primo tempo, quindi il risultato è Virtus Castelfreddano, 3, Realti, Motona, 3, pareggio fino adesso, un pareggio meritato.